Ciao a tutti! Oggi abbiamo preparato una cherry pie, la crostata di ciliegie di Twin Peaks perché è in onda la terza stagione su Sky e quindi abbiamo deciso di fare una crostata a tema anche perché siamo in periodo di ciliegie. Se volete assaggiare la vera cherry pie quella di Twin Peaks dovete andare a North Bend, nel locale di Twin Peaks, è possibile visitare la cascata vicino e l'hotel di Benjamin Horne. Vediamo gli ingredienti! Gli ingredienti sono quelli classici della pasta brisè, quindi 500 g di farina doppio zero, 250 g di burro freddo che abbiamo già tagliato, mezzo cucchiaino di sale, poi 30 g di zucchero di canna e 100 ml circa di acqua. Mettiamo gli ingredienti in una planetaria, un'impastatrice, noi utilizziamo l'Ulinex al compena, non la potete utilizzare qualunque tipo di impastatrice planetaria. Quindi cominciamo mettendo la farina. aggiungiamo il burro, il cucchiaino di sale, il cucchiaino di sale, il cucchiaino di cucchiaino di sale, lo zucchero di canna. Facciamo partire il Moulinex High Companion. Abbiamo messo l'impostazione della pasta brisè dell'applicazione del Moulinex High Companion, che è velocità 6 con lama per impastare per 3 minuti e spingiamo start. questo impasto potete farlo benissimo anche a mano, noi solo per questione di praticità lo facciamo con una planetaria. Mentre impasta aggiungiamo un po' di acqua. aggiungiamo ancora altra acqua, regolatevi un po' ad occhio, quindi noi in tutto adesso ne stiamo aggiungendo altri 50 ml, quindi in totale 150 ml. praticamente abbiamo finito di fare l'impasto. Ovviamente ci ha aiutato il Moulinex High Companion, però in generale è un impasto estremamente semplice. come vedete in pochissimi minuti abbiamo fatto l'impasto, lo tiriamo fuori, lo compattiamo poi lo mettiamo poi in frigo per un'oretta circa. come vedete abbiamo diviso la pasta brisè in due e la mettiamo nella carta da forno. esattamente come più o meno quando la acquistate già fatta, però come avete visto ci abbiamo messo così poco tempo, è stato estremamente semplice che non vale la pena in realtà acquistarla già fatta. come vedete. Il nostro impasto è in frigo, puliamo le ciliegie. Abbiamo comprato 700 g di ciliegie mature e adesso le puliamo e le zuccheriamo. Adesso che le abbiamo pulite e snocciolate, aggiungiamo 4 cucchiai di zucchero di canna. Lasciamo le ciliegie a macerare un po' nello zucchero. Eccole qui e adesso prepariamo la crema di cioccolata. Adesso cominciamo a preparare la nostra crema con 400 ml di latte. 2 cucchiai di amido di mais, 4 cucchiai di cacao amaro e 70 g di zucchero di canna. E poi abbiamo il cioccolato fondente al 70% che è 60 g. La crema la prepariamo sempre nel Muli Next High Companion. Mettiamo il latte. Mettiamo lo zucchero. Mettiamo l'amido di mais. E il cacao. Abbiamo messo l'accessorio frusta sbattitore. Impostazione a velocità 4 per 90 gradi per 7 minuti. Facciamo partire. Aggiungiamo la cioccolata fondente. La facciamo sciogliere con il resto della crema. La cioccolata l'abbiamo aggiunta che mancavano 2 minuti. La facciamo sciogliere con il resto della crema. Per fare il tema Chevron di Twin Peaks abbiamo preparato queste strescette tagliandole zigzag di carta. Queste ci aiuteranno a formare la parte di sopra Chevron. Indipendentemente che siate dei fan di Twin Peaks oppure no, comunque con questa crostata alle ciliegie farete un figurone. perché è assolutamente diversa dalle solite per forma ma anche per gusto perché c'è la cioccolata, le ciliegie. È veramente una crostata particolarissima. Sì esteticamente ma anche il gusto è veramente particolare. Dovete tagliare le strisce con precisione seguendo la carta. Nel frattempo abbiamo acceso il forno a 170 gradi statico, quindi lo stiamo preriscaldando. Adesso mettiamo la crema di cioccolato che abbiamo fatto dentro le ciliegie. se non avete idea della bontà di questa cosa. La cherry pie classica che abbiamo mangiato a North Bend, il paesino in cui è stato girato Twin Peaks, in realtà ha soltanto le ciliegie all'interno. Quindi potete, se volete fare quella classica, potete saltare questo passaggio della cioccolata. Quindi mettere soltanto le ciliegie all'interno della crostata. Ma così viene molto più buona. Quindi decidete un po'. Noi abbiamo voluto un po' personalizzare la cherry pie di Twin Peaks. E guardate che bontà! Aggiustiamo un po' i bordi, prima di mettere le strisce, in modo che siano ondulati. Il nostro stampo è già ondulato, però ovviamente lo stiamo un po' aggiustando ai bordi, in modo che sia omogeneo. Adesso avviene il momento cruciale in cui dobbiamo mettere le strisce, cercando di non farle rompere. Proviamo. Sono tre strisce. Dovete essere estremamente delicati in questa fase. 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 Dovete essere delicati in questa fase. Inforniamo la crostata. Abbiamo messa giù perché deve cuocere di più, quindi cominciate così la cottura. Dopo 40 minuti abbiamo sfornato la crostata e ci stiamo mettendo un po' delle ciliegie che avevamo pulito e snocciolato nella seconda metà dove non abbiamo messo le strisce a zig zag. Sistematele bene nell'altra metà, così avrete veramente un gusto unico perché c'è la crema di cioccolata sotto, un po' di ciliegie all'interno e poi ci sono queste ciliegie non cotte nell'altra metà. E' buonissima! Agente Cooper dovrebbe venire qui a mangiarla, non a Twin Peaks. Ciliegie ha mangiato la cherry pie, la crostata di ciliegie più buona del mondo. Noi ci siamo stati, sicuramente è buonissima quella crostata, è la classica quindi non con ovviamente con le strisce Chevron a tema Twin Peaks. Però è sicuramente molto buona. Questa crostata è adatta ad una serata magari in cui avete organizzato la visione di Twin Peaks tutti insieme, ora che Twin Peaks è in onda su Sky, la terza stagione, mi raccomando seguitela. E soprattutto fateci sapere qui nei commenti se questa ricetta vi è piaciuta, se avete provato a replicarla. E iscrivetevi al canale se volete ricevere le notifiche di altre ricette come queste, perché ne faremo altre di altre serie tv, di altri film, quindi fateci sapere insomma come andrà. Ecco qui, la nostra crostata di ciliegie è pronta, adesso noi andiamo a mangiarla. Mi raccomando allora iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, ciao!